Si accetta da Nagatomo, quasi da Zalatino, parola del Tener, Tener, parte il tiro, De Santis! Attenzione a Roma che attacca con la Florenzi, palla limite, Cerviglio, c'è Totti in zona, attende Cerviglio, scarica su Totti, parte il tiro, Rete, Totti, gran gol, la prima volta da Giardici, centresimo, si gira Palazzo, c'è Guarinna, Zalatino, Guarinna, il destro, Guarinna, ha spaccato il palo! Le cross di Pereira, vale e mezzo, Stagal, Valets, De Santis! Cerviglio non ha sostegno, poi il grande Guizzo, su Campiassa, ancora Cerviglio, va da solo, attenzione, Mila a contatto, caccia del rigore! Bencorsa, parte Totti, Rete, raddoppio della Roma, quarantesimo! Attenzione impostata da Strotman, c'è Florenzi a destra, parola per lui, Florenzi, Vino, Rete, al quadro, quattresimo, preazio della Roma! Strotman, accelera l'olandese, del sinistro mobile a cercare, Florenzi! Andamovic, è strepitoso! Alparez, nel sinistro morbido, parla in aria, la propria palazzo verso Renocchia, Vete! Attenzione, vediamo questa decennia tagliamento, caccia di punizione, va l'annullato! Sì, è andato prima sul pallone di De Santis! Strotman, poi c'è finito la velocità di Cervinio, parte velocissimo lì, buon anno, volo Cervinio, verso l'area di rigore, di freghi per Cervinio, non lo tengo lo Cervinio, di niente di rigore, Cervinio! Andamovic, super! Fa girare palla all'Inter, Alvarez, a voto Balsaretti, che stende Alvarez, finisce qui la partita del Tazzino della Roma! La Roma di Cassia, sbanca San Siro, vince per 3-0 dopo 7 giornate di campionato, è un punteggio pieno, non solo a Juve e Napoli, ma una grande Roma, è in costa per lo studente! La Roma di Cassia!